Samuele contro Nicola e Mattea contro Nicolò, poi eventualmente cambiamo, vediamo un po' di più, non si è abituati. Dopo ci sono tira, andiamo a fare, ripeto, la Veronica in un'altra due stazioni, poi alla fine ci facciamo degli uno contro uno, molto tranquilli, simpatici, divertenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.